Abbiamo un'armonia di squadra sicuramente, quindi è ovvio che ognuno ha dei propri compiti ed è normale che da esterno qualcosa bisogna creare in fase offensiva e siamo i primi comunque a fare delle uscite difensive che siano sui terzini o sui quinti avversari. Quindi è normale che ci debba essere appunto questa cosa dell'essere determinanti sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Ci conosciamo molto di più e quindi è normale che sappiamo come muoverci e come gli altri magari vogliono la palla, come gli altri interpretano un'uscita difensiva piuttosto che un'uscita con la palla al piede. Quindi ci conosciamo decisamente meglio e quindi questo è sicuramente un vantaggio. Poi è chiaro che ci sono dei concetti che il mister ci chiede e quelli cerchiamo di riportarli in partita ed è ovvio che quando riescono vengono fuori delle belle azioni. Stiamo andando un po' tutti a segno e quindi vuol dire che la fase offensiva viene fatta da parte di tutti e quindi ognuno ha le proprie armi, chi con il tiro da fuori, chi con l'inserimento. Quindi dobbiamo sfruttarle tutti. Per quello che dicevi te sicuramente c'è un'idea condivisa, c'è un sacrificio da parte di tutti. È chiaro che quando le cose van bene poi ti viene ancora più voglia di fare, di provare appunto quello che proviamo in allenamento. E ti viene ancora appunto un azzardo, cioè provi delle cose anche diverse da quelle che vengono qui. Sì, quindi sì c'è quella voglia lì, c'è quella voglia di far bene, però siamo anche consapevoli del fatto che arriveranno anche i momenti difficili e questa mentalità, questa voglia di fare ce la dobbiamo ricordare e anzi dobbiamo averne ancora di più perché quando arriveranno i momenti difficili dobbiamo essere ancora più bravi. Aspetto una gara difficilissima, abbiamo visto che nonostante abbiamo avuto delle difficoltà, sono andati a vincere 3-0 fuori casa con la Turris, quindi sarà una squadra galvanizzata da questa vittoria e che sicuramente vorrà far bene in casa. Noi dobbiamo farci trovare pronti perché sarà una battaglia.